San Damaso. Nato a Roma nel 305 e cresciuto in una famiglia molto devota, divenne diacono al fianco del papa Liberio. Per ordine dell'imperatore Costanzo il papa fu mandato in esilio e il suo posto fu preso da Felice, un arcidiacono ariano. Damaso rimase fedele a Liberio e una volta tornato dall'esilio lo aiutò a destituire l'antipapa Felice. Divenne papa nel 358, sconfisse l'arianesimo e restaurò molti edifici sacri e catacombe. Morì l'11 dicembre 384, fu sepolto sulla via Ardeatina e più tardi fu trasferito nella chiesa di San Lorenzo in Damaso. è protettore degli scrittori, dei divulgatori scientifici e degli archeologi.